Amore, ma dobbiamo proprio farlo. Sì, amore, dobbiamo proprio farlo. Ma sei proprio sicuro? Sì, amore, c'è la crisi. Non possiamo fare in un altro modo. Se è per scaldare la nostra famiglia, allora fallo. Allora lo faccio. Ma papà, è il nostro albero di Natale. Tranquillo, amore, anche quest'anno Babbo Natale ci darà una mano. No, 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 no! Buon Natale, campellone e campellone! Sube lo dito! Sube lo dito!